Un nuovo sito web, app e brand del turismo. Si apre così un nuovo processo di digitalizzazione nel comune di Mondolfo e Marotta, con la finalità di avviare un rapporto diretto e trasparente con i cittadini. L'app My Mondolfo Marotta, che consentirà attraverso smartphone e tablet di rimanere informati sulle attività del comune, sarà completamente gratuita e resa possibile grazie a due totem, uno posto nella sede municipale di Mondolfo e l'altro nella Casa del Turismo a Villa Valentina a Marotta, dove i cittadini e i turisti potranno navigare in contemporanea ed informarsi sulle news ed eventi del territorio. Nuovo look anche per quanto riguarda il brand turistico, che nel logo unirà le tipicità balneari di Marotta con la storia di Mondolfo, uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo qua ed è una giornata in cui il comune di Mondolfo entra a far parte nel mondo dell'innovazione, quindi mettiamo in campo tutti gli strumenti che servono per coinvolgere i cittadini, per rendere la nostra amministrazione sempre più trasparente e sono contento perché questa serata c'è tanta gente piena di persone, tanti cittadini, tanti operatori turistici che ci hanno messo la faccia, hanno collaborato assieme a noi per questo grande risultato ed è un risultato che il nostro comune ottiene e che altri comuni non hanno. Ci sono strumentazioni che i comuni anche più grandi di noi non avranno, noi invece ce le abbiamo e questo è molto importante per il turismo, ma anche per l'immagine, per i nostri cittadini. Siamo arrivati a ottenere i risultati che questa sera...